Musica Bentrovate e bentrovati, sono Elia Bellussi, sono il presidente del Museo Piemontese dell'Informatica, un'associazione di volontariato che è in Torino, in Piazza Riccardo Valla. Il Museo Piemontese dell'Informatica ha come attività principali quella del recupero e del restauro di computer storici, nonché la divulgazione scientifica, tramite mostre, eventi e laboratori educativi per le scuole e per i ragazzi dai 6 ai 16 anni. Le nostre attività sono rivolte ad un pubblico generico, proprio perché cerchiamo di analizzare quelle che sono le problematiche legate alla trasformazione digitale, come ad esempio il gender gap, ovvero la differenza tra uomini e donne in ambito informatico. Ad esempio, svolgiamo attività come l'Ada Lovelace Day, in autunno, che è una giornata dedicata alle donne in ambito STEM, ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, e ai loro successi, dedicato appunto ad Ada Lovelace, che è considerata la prima programmatrice della storia, nel 1860. Abbiamo i corsi per gli studenti e per i ragazzi dai 6 ai 16 anni, come il Coder Dojo o il Mupin Lab, in cui insegniamo loro attività di pensiero computazionale, di coding e di elaborazione dei problemi. Questi eventi sono generalmente mensili o bimestrali e sono appunto liberi e gratuiti. In primavera organizziamo Ebitto Vistori, un evento divulgativo che è l'evento principale della nostra associazione, in cui integriamo sia i laboratori, sia le esposizioni, sia le conferenze. Esposizioni che sono della nostra collezione, ma anche di musei italiani e stranieri che aderiscono all'iniziativa, ad esempio dalla Svizzera, dalla Francia o dalla Croazia. In questi eventi, aperti al pubblico e completamente gratuiti, cerchiamo di venire incontro anche alle problematiche e ai temi attuali, come l'intelligenza artificiale e il suo impatto sulla società e sull'ambiente. Questo perché vogliamo far sì che le persone comuni possano avvicinarsi a questi ambiti, a questi temi e comprenderli, in modo da non farsi soverchiare da queste tecnologie che ci circondano e che permeano la nostra società. È importante capire che l'informatica sta aiutando lo sviluppo sociale e culturale. Ad esempio, con la pandemia, l'informatica ha dato una mano per quanto riguarda l'educazione da distanza, oppure per quanto riguarda la gestione del lavoro da remoto. Queste tematiche sono importanti, riteniamo che siano importanti e vorremmo che venissero divulgate e che la popolazione possa comprenderle. Come associazione di volontariato siamo sempre alla ricerca di nuovi soci perché ovviamente cerchiamo di realizzare al meglio le nostre attività. Se siete curiosi di vedere questi vecchi computer come il Comodo 64 o di aderire all'associazione, vi rimando al sito mupin.it A presto e grazie!